Trova il compagno, sentimena il gol che dà la situazione di parità Chiude bene il triangolo Può essere il gol del vantaggio, gol fondamentale, cambia tutto Ci sono metri a disposizione Buono il cross Ti provare in testa? Che gol! Splendida rete! E' il gol che tutti gli attaccanti sognano, traiettoria fantastica all'incrocio dei pari